Annyeonghaseyo, benvenuti a tutti in questo nuovo video. Oggi Gloria è qui con voi per parlarvi di un argomento che ha cercato di non portare e non intavolare più perché sperava che il problema fosse risolto, invece ci siamo da pochi mesi a questa parte perché oggi vi parlerò di un prodotto che mi ha svoltato la vita da quando mi è arrivata a casa e non sono più potuta andare appunto a continuare le mie sedute di laser per risolvere la mia questione peli. Prima di iniziare vi ricordo che se non siete ancora iscritti al canale recuperate subito se volete rimanere sempre aggiornati con la campanella attiva di quando caricherò nuovi video. Inizierei subito con raccontarvi perché ho deciso di fare questo video molto importante che penso potrà risolvere un sacco di vostri problemi. Tutto ebbe inizio da quando presi la pillola anni fa che però ha influito negativamente sui miei ormoni. Era un sovradosaggio, insomma io la pillola contraccettiva non la posso prendere, non la prendo da diversi anni. Sono iniziati a spuntare dei peli di troppo, molto scuri. Poco dopo appunto ho scoperto di avere l'ovaio policistico. Comunque li avevo sempre trattati con la ceretta, con la lametta all'inizio, poi con la ceretta, poi con la pinzetta, insomma poi mi ero stressata talmente tanto che era diventato veramente un casino. Andare a stressare la pelle per tutti questi trattamenti, per levare i peli, avevano fatto uscire anche brufoli. Ero veramente, e voi lo sapete, per chi mi segue da tanto, ero veramente in down. 7-8 anni fa non si parlava ancora di laser o di luce pulsata o di appunto laser ad alessandrite, almeno io non ne conoscevo e sul web non avevo trovato niente che mi potesse aiutare. Fino a quando, qualche anno più tardi, ho iniziato ad andare da Epilate. È un franchising che si occupa proprio di epilazione permanente. Ho avuto una collaborazione con loro che ho portato avanti fino a quando poi non c'è stato questo stramaledetto lockdown, ci ha un po' destabilizzato tutti gli appuntamenti, io non sono più tornata, non ci siamo più fatti sentire e la situazione sul viso era peggiorata. Perché sul resto del corpo io avevo praticamente zero problemi, perché comunque la mia pelle è molto chiara, ma il mio pelo è molto scuro, quindi quando abbiamo trattato la zona tipo delle gambe o bikini non c'è stato problema, 7-8 sedute e tutto è sparito. Ovvio, le cosce non le abbiamo più continuate, infatti ce ne sono ancora un pochino, però tipo dal ginocchio in giù io non ho più niente. E anche lì non so se è ancora attivo il codice sconto di Epilate, comunque nel caso ve lo lascio nell'info box, spero di ricordarmi. Ad ogni modo, avevo iniziato da loro anche il trattamento viso, ne avevo provate anche qua di cotte e di crude, quando è uscita la moda del laser andavo da chiunque, ho speso un sacco di soldi, nessuno mi aveva risolto il problema. Questa pelurietta continuava a rimanere, così ho chiesto per questo laser ad alessandrite e ho scoperto che c'era appunto anche quello al diodo. Ho provato anche quello. Era migliorata, i peli erano tornati ad essere di nuovo piccoli e biondi e corti, solo che appunto questa pausa che poi ho preso per colpa del mondo, questa pausa nella vita e nelle attività sociali e personali, insomma, mi ha messo un po' a disagio perché sono spuntati fuori di nuovo. Ha riaperto una cicatrice in me di insicurezze che non mi piaceva, non avevo di nuovo voglia di tornare in quel loop, di pensare a come fare, di non stare sotto il sole perché altrimenti oddio mi vedono il pelo, oddio mi vedono i peli, oddio mi vedono. Non avevo voglia e quindi ho detto cosa posso fare. Poi, puff, il caso, fortuna, insomma, mi è arrivata questa collaborazione con questo brand che si occupa di altro e mi ha anche aperto le porte ad un altro brand che si occupa appunto di vendita di epilatori di luce pulsata at home, quindi a casa vostra. Questa era per me una manna dal cielo perché eravamo tutti a casa e quindi avevo bisogno di risolvere la situazione. Fatto sta che mi arriva questo prodotto. Mi arriva a casa questa scatola e io onestamente, ve lo dico proprio onestamente perché sapete che sono molto onesta e trasparente con voi perché sono una persona che capisce il valore dei soldi che uno va a spendere e questo prodotto mi aveva lasciato un po'. All'inizio appena l'ho ricevuto ho detto, ma poi non è che è pericoloso farla a casa. E questa scatola è rimasta sulla scaletta delle cose da aprire per mesi. Per tipo due mesi non lo avevo aperto, non lo avevo toccato e andavo avanti a piangermi addosso dicendo, oh i pelli, ma non facevo niente per migliorare la cosa. Perché avevo paura di utilizzare questo apparecchio perché lo vedevo come una roba tipo che poteva farmi del male perché era a casa, perché l'hanno lasciato, perché lo lasciano fare a casa, c'è un laser, capisci? Mi sono fatto un sacco di pippe mentali fino a che non l'ho aperto e non l'ho utilizzato. A parte che è fichissima questa scatola perché ho letto le istruzioni, mi sono documentata bene e anziché sponsorizzarlo appena ricevuto e anziché sponsorizzarlo senza prima averlo provato, la vostra amica si è tenuta il segreto, è stata zitta. Quindi che cosa ho fatto? Ho iniziato ad utilizzarlo 8-10 sedute massimo con la tempistica di una volta a settimana almeno. Che è molto diverso generalmente da quello che si fa quando andiamo a fare la luce pulsata o il laser ad Alessandrite al diodo bla 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 dai professionisti, ecco. Il bulbo piano piano che viene laserizzato si indebolisce, quindi dobbiamo seguire anche il ciclo del pelo per poter coprire tutte le crescite, tutta la crescita di ogni pelo esistente sull'epidermide. Facendo il sunto di tutti questi mesi di prova, non mi sono schedata le sedute da farmi. Cercavo di farlo una volta a settimana, però sono molto igra da una parte, mi dimentico, dall'altra vedevo la situazione migliorata e quindi non lo facevo perché già dalle prime sedute notavo miglioramenti. Poi ovvio che non dovete fare come me, dovete essere come quando andate dai professionisti, un appuntamento, vi mettete l'appuntamento e ve lo fate. Parlando di Royal Skin, questo è un epilatore a luce pulsata che è adatto a qualsiasi parte del corpo, ovviamente evitando la zona magari di tatuaggi. Potrebbe andare a colpire i tatuaggi e bruciare la pelle, quindi non usatelo sui tatuaggi, su zona in cui avete i tatuaggi o vicino ai tatuaggi, infatti io le braccia purtroppo non le posso fare. Da tenere conto ovviamente anche qua il colore della propria pelle perché come vi dicevo oggi esce sul pigmento del bulbo, del pelo, quindi c'è una scheda alla quale fa riferimento, ve la metto anche qua adesso per guardare veloce. Ma se andate sul sito dei Royal Skin trovate tutto, che tipologia di pelle avete, se potete trattare il pelo con Royal Skin e che eventualmente potenza utilizzare. Tutto quello di cui avete bisogno sta all'interno della box che comprerete, che acquisterete, che vi arriva a casa. Questa come vedete è più piccolina rispetto a quello che ho ricevuto perché questo era il primo prodotto, quindi capite che questa è la prova che ce l'ho da tanto, tanto tempo e che sto testando per voi da tanto tempo. Questo qua è quello che mi è arrivato poco tempo fa, che è praticamente la stessa cosa, vi lascio delle immagini qua di unboxing, più moderno e sicuramente molto più figo. Quindi trovate tutto all'interno della box, non avrete bisogno di acquistare ricarico o pezzi di ricambio perché c'è tutto lì. Ed è fichissimo perché? Perché è in dolore, ogni flash che spara, li chiamerò flash, ogni luce pulsata che spara, non sentirete dolore. Anche qua dipende in base alla potenza con cui lo utilizzate, però tipo io solitamente sul viso lo utilizzo a 3-4, non fa per niente male. In più la cosa che vi svolterà la vita, se siete proprio anche un minimo pizzicotto vi fa urlare tantissimo, c'è la modalità Ice. Perché la modalità Ice l'hanno inventata per tutti coloro che sono un po' sensibili. Con la modalità Ice andiamo a raffreddare la pelle, quindi l'effetto del flash non si sentirà. In più è super moderno perché ha il display in touch per monitorare sia tutte le pulsazioni che avete. Partono con 99999 pulsazioni, quindi un sacco, garantiscono 20 anni di durata, cioè è pazzesco. Potete farvi tutto il corpo. E sempre nel display vedrete appunto anche la potenza della luce pulsata e se la modalità Ice è attiva o meno. Come vi dicevo può essere utilizzato per le zone più delicate del corpo, come viso, ascelle e zona bikini. Devo iniziare a trattare, a trattare, a trattare le ascelle. Ho veramente quattro peli, questo perché quando mi erano usciti i primi peli sulle ascelle le ho trattate subitissimo col silk e peel. Lo so, voi direte, oh mio Dio Loria ma sei matta? Come hai fatto? Non lo so. Come si utilizza? Siccome io oggi ho fatto una seduta dopo tanto per farvi vedere la situa, per prima cosa bisogna rasare con la lametta la zona interessata. Molto importante non trattare la pelle, il pelo appunto, con ceretta perché il bulbo deve essere presente, deve essere soltanto tagliato a filo con la pelle, cioè con una lametta. Il laser va ad agire sul pelo. Se voi lo andate a strappare, il laser non agisce su niente. Quello poi ricrescerà e quindi vi direte non ha fatto niente. No, no, non è che non ha fatto niente, che il bulbo l'avevate staccato. Questo è l'errore più grande che sento ogni volta quando la gente va a farsi il laser e che dicono, ah mi ha fatto la ceretta. Che cosa fare poi? Collega la presa e tieni premuto il tasto di accensione del dispositivo. Poi imposti la potenza, quindi da 1 a 5, premendo il tasto play di accensione più volte. Ovviamente indossate gli occhiali protettivi in dotazione perché dovete proteggervi dal flash della luce perché fa malissimo agli occhi. Anzi, vi consiglio anche di chiudere mentre state, cioè avete gli occhiali addosso ma chiudete anche gli occhi nel mentre che andate a laserizzarvi. Semplicemente poi dovete poggiare in modo verticale, quindi l'epillatore deve stare sempre in verticale, non deve mai stare inclinato o sotto sopra. Cioè non è che ve lo sparate girandolo come volete, lui deve sempre stare in verticale. Infatti vi consiglio di sdraiarvi su un divano e mettervi lo specchio in alto, dove volete, insomma, sul letto, su un lettino e tenerlo sempre, sempre in verticale. Se dovete fare la parte del viso che è molto piena di dislivelli, fatevi aiutare da qualcuno. Il suo raggio d'azione è in quel rettangolino che vedete, poi ovviamente si dirama perché la luce va in giro, però dovete spostarlo leggermente poco alla volta. Non state troppo sulla stessa zona, cioè fate una pulsazione e poi vi muovete perché altrimenti essendo appunto un laser potreste rischiare di bruciare la pelle o comunque di creare macchie sulla pelle. Assolutamente usate sempre la protezione, l'SPF 50 per il viso se avete trattato il viso e per il resto del corpo se avete trattato il corpo. La pelle è esposta alla luce ed estate è meglio non fare il laser, quindi se lo fate non dovete mettervi sotto il sole, non potete prendere il sole se fate il laser, mi raccomando. Mi arrivano ancora messaggi su questo problema dei peli sul mento, dei peli in generale, come faccio, bla bla bla. Essendo la mia condizione un po' ormonale, non voglio dare la colpa ai miei ormoni, però in realtà è colpa dei miei ormoni. Qua abbiamo 99999 pulsazioni, quindi 20 anni di laser, chissene no? Cioè io sono stracontenta e mi sento tipo mi sono tolta un peso dallo stomaco, sono più tranquilla, che non ho più questa cosa del dover andare, di prendere appuntamento. C'è lui che mi ha risolto la cosa. Informazioni, se volete acquistarlo vi lascio il link nell'info box, mi raccomando cliccate tramite il link perché si applicherà automaticamente il codice sconto, FAIR20 nel caso. Detto questo raga, è bello sapere che c'è una soluzione anche a queste piccole cose che però provocano tanto tanto disagio, quindi vi capisco e so che voi capite me. Spero che questo video vi sia stato utile, io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti.